Ok, allora, affrontiamo, come dicevamo, adesso il problema della complessità, dove va a finire il tempo di elaborazione, eccetera, eccetera Allora io volevo farvi vedere un'altra cosa, prima di passare, diciamo così, alle slide Ho lanciato di nuovo il programma ricorsivo, chiaramente l'ho lanciato nell'intervallo, quindi è arrivato solamente fino a 33 Quindi fino a 33 ci arriva in fretta, poi dopo il problema Per vedere, diceva, beh, questo programma sta frullando come un pazzo e quindi sta usando tutta la CPU che il mio computer ha a disposizione In realtà non è vero, no? Perché se andate a vedere nelle impostazioni sul task manager, diciamo così Gesture risorse, mi pare si chiama in italiano Si vede che la CPU utilizzata dal mio programma, quindi questo qua, OpenJDK Platform Binary, cioè il mio eseguibile Java Sta mangiando solamente circa il 15% delle risorse del computer Poi complessivamente il computer in questo momento sta usando zoom, sta registrando il video, codificando il video, eccetera, eccetera Quindi alla fine, diciamo così, la CPU è abbastanza stressata Ma dal punto di vista del programma non ne sta usando più del 15% Perché questo 15%? Ma perché, lo vediamo qua, questo computer che sto usando io adesso ha 4 core e 8 processori logici Quindi all'interno della CPU del calcolatore è come se fossero 8 processori che possono andare avanti in parallelo 8 processori che possono andare avanti in parallelo funzionano bene se il programma è in grado di parallelizzare le proprie operazioni Il nostro codice è puramente sequenziale, noi non abbiamo ancora imparato, ne lo faremo a fare algoritmi che lavorino in parallelo Su più thread separati E quindi di fatto quello che possiamo allocare all'esecuzione del nostro programma è un processore logico E quindi 100 diviso 8 fa circa 15 Quindi questo è proprio il numero Quindi quello che stiamo vedendo è che il nostro programma sta usando a palla, diciamo, uno dei processori logici Gli altri 7 non fanno nulla O meglio, questa notte non facevano nulla, adesso stanno lavorando sulla videoconferenza, su zoom, sulla codifica del video e altre cose Che stanno girando su questo computer E quindi in realtà stanno facendo altre cose Però anche se il computer fosse scarico Noi non potremmo, con un programma sequenziale di questo tipo, usare più del 15% della potenza di calcolo del computer E questo è perché, diciamo, avere computer con più core, con CPU, con multicore, con 4 core, 8 core, eccetera, eccetera Permettono a più programmi di essere in esecuzione contemporanea sui core diversi Ma non danno nessun vantaggio dal punto di vista dell'esecuzione del singolo programma Quindi questo facciamo attenzione quando andiamo a valutare la potenza di calcolo Dipende molto dal tipo di programmi che dobbiamo eseguire Se volessimo sfruttare effettivamente un'architettura multicore Dobbiamo fare in modo che queste chiamate ricorsive andassero a finire su core diversi Non sempre sullo stesso core, sullo stesso CPU Però questo complicherebbe enormemente Perché bisognerebbe creare dei thread e avere un'applicazione multitreading Che poi le sincronizzi e tutto un altro mondo, tutto un altro livello di complessità Ok, adesso lo stoppo per pietà della CPU del mio computer Dov'è la console? Stoppati Ok, quindi si vede che effettivamente c'è stato un gradino di discesa Questa è la differenza tra quando il programma stava girando e quando il programma non sta più girando Questo è tutto lo sforzo che si stava mettendo a fare la ricorsione 15% della potenza disponibile di calcolo di questo PC Ok, veniamo alla nostra complessità Cerchiamo di capire Prendendo le slide che vi ho condiviso l'altra settimana Proviamo a capire un po' insieme come si formalizza, come si rappresenta questo problema della complessità Rispondo solo a Giulio I gigahertz del processore rappresentano la quantità di computazione che si possono fare in un secondo Il gigahertz è in realtà la frequenza a cui lavora la CPU Ogni CPU in realtà può fare Quindi è un orologio interno che è interno al microprocessore Ad ogni ciclo di questo orologio A seconda del tipo di processore Ma a seconda del tipo di programma che deve eseguire Può eseguire una o più operazioni in parallelo Quindi in realtà ci sono le CPU oggi che sono dette super scalari Nel senso che possono fare più operazioni Contemporaneamente in un singolo ciclo di clock Quindi in realtà il processore può fare 3 gigahertz vuol dire 3 miliardi o anche più di operazioni al secondo Ciascuno dei core, diciamo così Ciascuno dei core fisici Operazioni ovviamente che non sono istruzioni Java Sono operazioni di più basso livello Quindi una singola istruzione Java potrebbe magari comportare Mille istruzioni a livello di codice macchina Però le operazioni ci sono Siamo noi che ne stiamo chiedendo molto di più Il mapping tra Un processore 8 core e 2 gigahertz Ciascuno core Ciascuno core dei core fisici Poi in realtà il processore Intel Dividono ogni core fisico in due core virtuali Che sembrano diversi Ma in realtà usano lo stesso hardware Quindi non possono lavorare in parallelo Ok Per noi tutto questo ragionamento sui core, sui processori Sarà una costante moltiplicativa nel ragionamento che stiamo per fare Come facciamo misurare l'efficienza di un programma? Allora l'efficienza del programma è complicata Nel senso che quello che possiamo fare è ciò che io ho appena fatto Misuriamo il tempo Prendiamo il cronometro Il tempo di esecuzione dipende da mille fattori Da che computer ho io, da quanti core ha, da quanti altri programmi stanno eseguendo in quel momento Eccetera eccetera E quindi posso sicuramente fare un'analisi empirica A noi è servita per capire un pochino Che andamento aveva E forse anche poter fare delle previsioni Ok ma visto questo andamento Se dovessi risolvere un problema di dimensione 50 Quanto tempo ci vorrà? E allora uno fa un'interpolazione Cerca di avere una stima, un'idea Sulla base empirica di esperimenti fatti Eseguendo programmi Oppure in realtà noi oggi ragioniamo un attimo Su quello che potrebbe essere una analisi più analitica Più numerica, più matematica se vogliamo Per prevedere quello che potrebbe essere la complessità Il tasso di crescita di questa complessità In funzione del tipo di algoritmo Teniamo presente che noi siamo vivendo in un periodo In cui vige la cosiddetta legge di Moore Forse ne avete già sentito parlare Che è una legge anche questa empirica Che hanno i progettisti di CPU I progettisti di CPU cosa ne dico? Questo signor Moore Che era uno dei primi progettisti dell'Intel Già negli anni 70 Qua in basso vedete Tutto parte degli anni 70 Ha osservato empiricamente Quindi lui ha osservato i processori che uscivano sul mercato E ha detto Oh ma tu guarda, il numero di transistor Su ciascun microchip Su ciascun microprocessore Raddoppia ogni due anni Raddoppiare il numero di transistor In qualche modo ti raddoppia la potenzialità di calcolo La potenza di calcolo Non la frequenza Ma la possibilità di fare più operazioni E questo trend Che è stato osservato Nei primi processori che sono usciti Quindi più o meno in quest'area qua Casualmente ha continuato in modo abbastanza lineare Fino oggi Fino al 2020 Quindi è una cosa che va avanti da 50 anni Capisci che nella storia dell'informatica È una cosa spettacolare 50 anni sono Non un'era geologica Ma 100 eroe geologiche Quindi noi Stiamo abituati Al fatto che Semplicemente Facendo passare il tempo La potenza di calcolo disponibile Aumenta Poi in realtà Contemporaneamente Il costo necessario Per avere quella potenza di calcolo Diminuisce Questo è quello che fa sì che L'informatica Abbia stravolto Tutti i modelli Economici precedenti Perché Più tardi arrivi Meno paghi In un certo senso E quindi Tutto il meccanismo commerciale Diciamo così Sono stati da ripensare Ma questo è un altro discorso Quindi Noi potremmo dire Ma è un problema Della scacchiera Da 50 caselle Oggi non lo so risolvere Ma magari Tra due anni Tre anni Visto che ogni anno Raddoppia il numero di transistor Quindi ci sarà Sul mercato di computer Che lo sanno risolvere facilmente Notiamo che questo È di nuovo Una linea Una retta In una scala logaritmica Quindi in realtà Sta descrivendo Un andamento esponenziale Della potenza di calcolo Dei processori Il problema È che Qui Questa figura È raffigurato Che La legge di Moore È logaritmica Quindi è esponenziale No? Ma anche La complessità Dei problemi È esponenziale L'abbiamo visto Con le otto regine Con le n regine All'aumentare Di n Del numero di regine Il tempo di elaborazione Empiricamente Abbiamo visto Che sembra crescere Secondo un esponenziale Quindi praticamente Io ho La potenza di calcolo Che cresce esponenzialmente La dimensione Del problema Che cresce esponenzialmente E quindi La dimensione Del problema Risolubile Quindi il valore di n Cresce solo linearmente Quindi Se tra due anni Avrò processori Che sono Il doppio più potenti Non vuol dire Che potrò risolvere Problemi Che sono Il doppio più grandi Quindi da 25 A 50 caselle No Potrò risolvere Problemi che sono Una casella in più Due caselle in più Che cresce La dimensione Del problema Che so trattare Cresce solo linearmente Al crescere Se Cresce esponenzialmente La potenza di calcolo Disponibile Quindi Non possiamo dire Va bene Ma appunto Basta aspettare un attimo E riuscirò A risolvere problemi Grossi il doppio No Riuscirò A risolvere problemi Che richiedono Il doppio Richiederebbero Il doppio del tempo Per essere eseguiti Ma che sono Semplicemente Un n in più Due n in più N più 1 N più 2 Solamente Un passettino lineare In avanti Purché La legge di Moore Continui Cioè se la potenza di calcolo Continua A aumentare Con questo trend E non sanno più Cosa inventarsi I progettisti di chip Ma lo devono fare Per rimanere sul mercato Quindi speriamo Che si inventino Ancora qualcosa Io so che Riuscirò a risolvere I problemi più grandi Ma ad un passo Che non è A un trend Che non è esponenziale Ma è lineare Perché? Ma perché Il tempo necessario Eseguire A risolvere Un problema Cresce esponenzialmente E so stesso Con Può crescere Dipende dal tipo Di problemi Esponenzialmente Con la dimensione Del problema E a volte È perché Non siamo capaci Noi E quindi È una Efficienza Dell'algoritmo Che potremmo Scrivere in modo Migliore Oppure È proprio Una complessità Intrinseca Del problema Cioè ci sono I problemi Che non si possono Proprio risolvere Senza ricorrere A un numero Esponenziale Di operazioni E purtroppo Gli informatici Teorici Hanno proprio Scoperto di sì Cioè C'è una complessità Dell'algoritmo Che è Di fatto Il tempo Di esecuzione Necessario Al mio algoritmo Per risolvere Il problema E questo Ovviamente Non potrà essere Migliore Della complessità Intrinseca Del problema Che sto cercando Di risolvere Ci sono Certi problemi Che magari Non so Quando parlavamo Della ricorsiva Una volta scorsa Parlavamo Di Fibonacci Che è un problema Che intrinsecamente È un tempo Molto semplice Di calcolo Lineare Ma noi Abbiamo fatto Un'implementazione Ricorsiva Che ci dava Un tempo Esponenziale Cresceva Esponenzialmente Il numero Di casi Considerati Allora In questo caso Avevamo Un'implementazione D'algoritmo Stupida Molto Meno Efficiente Molto più Complessa Di una complessità Maggiore Rispetto a quanto Fosse realmente Necessario Per risolvere Quel problema Sono due Ragionamenti Separati Uno è Dato un algoritmo Capire qual è La complessità Computazionale Di quell'algoritmo Ossia qual è Il trend Di crescita Del tempo Di esecuzione Al crescere Del dimensione Del problema L'altro È Capire Qual è Il Teorico Proprio dal punto Di sé teorico Il tempo Minimo La complessità Minima Necessaria A risolvere Un certo problema Ci sono certi problemi Che sono trattabili E altri problemi Che sono invece Esponenziali O peggio Di loro natura Allora Cominciamo Sulla parte più facile Gli algoritmi Quindi abbiamo Un algoritmo Che ha un tempo Di esecuzione Allora L'esperimento Che abbiamo fatto Prima È esattamente questo Abbiamo un algoritmo Che dipende La cui Soluzione Dipende Da un valore Di n Che in qualche modo Rappresenta La dimensione Del problema Nel nostro caso Era il lato Della scacchiera E il tempo Di esecuzione L'abbiamo misurato È una funzione Di n Funzione Che abbiamo visto Che non è una funzione Magari proprio bella Lineare Disegnata Continua Derivabile È una cosa Un po' a salti Un po' zigzagante Vabbè Però comunque Il tempo Il tempo di esecuzione Dipende Da n Per ora Ipotizziamo Che esista Questa funzione Anche se non la conosciamo Ok E qui ovviamente Il tempo di esecuzione Dipende Dalle operazioni Che fa il programma Qui c'è un esempio Di un algoritmo Di ordinamento Per bubble source Quindi per scambi successivi E quindi il tempo Di esecuzione Di questa istanza Cioè ho preso Un vettore Di sei elementi E l'ho ordinato E questo sotto La versione ordinata Per farlo Ho dovuto fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Operazioni E quindi il tempo Di esecuzione Sarà proporzionale A 8 per qualcosa Per il tempo necessario La singola operazione Lo posso ragionare Diciamo così Empiricamente Diciamo teoricamente Oppure posso fare Degli esperimenti Con dei programmi Gli do tanti vettori Da ordinare E vado a vedere Come cresce questo valore Ovviamente Se anziché Ordinare 5 elementi Ce ne fossero 50 Molti di più Il numero di Operazioni Da fare Qua sotto Crescerebbe Crescerebbe Con quale legge Cresce È ciò che stiamo Cercando di studiare Adesso Di capire adesso Ok Quanto cresce Linearmente Quadraticamente Esponenzialmente Eccetera eccetera Allora se uno va a fare I calcoli Si accorge Che l'algoritmo Di bubble sort Che è uno dei più stupidi Perché in realtà I passi che fa Sono indipendenti Dall'input Quindi Se io ho un vettore Che è già quasi ordinato In realtà lui ci mette Lo stesso tempo A ordinarlo Rispetto a un vettore Completamente disordinato Da questo rende facile L'analisi Uno ci fa tutti i conticini E si accorge Che questo programma Ha bisogno Di un numero di passi Che è di quest'ordine Di grandezza qua Cioè esattamente così Ciascun passaggio Corrisponde Al confronto E scambio Di due elementi Va bene Qualcuno ha fatto Questi conti Ovviamente Questo è il numero di passi Che magari richiede Un tempo diverso Quindi ha un coefficiente Moltiplicativo diverso Qui non sto dicendo Se sono millisecondi Microsecondi Non ci interessa La scala assoluta Ma il tempo effettivo Dipende Dal numero di passi Che faccio E anche dal tipo Di computer che ho E quindi qui ci sono Degli esempi teorici Che dicono Ipotetici Che dicono Guarda Se ho un computer Più veloce O più lento Ci metterò Un tempo maggiore o minore Quindi Il numero di passi Verrà moltiplicato Per un tempo Che è maggiore o minore A seconda Della potenza Del calcolatore Che ho a disposizione Ma il numero di passi Dipende invece Solo dall'algoritmo Non dal computer Ok E il numero di passi Contiene un termine N quadro Che come sappiamo Da anni di analisi A cui viene sottoposto Non analisi psicologica Ma analisi matematica Come sappiamo Quando c'è un termine N quadro Più N N quadro È il termine dominante Quindi al crescere di N Avremo che La funzione T T sarà del tipo La nostra funzione T di N Sarà del tipo Una costante Per N quadro Perché è vero Che c'è anche Un termine N C'è un mezzo Eccetera eccetera Questa costante Dipende C'è un 2 Qua sotto Ma poi c'è il tempo Di esecuzione La singola operazione È una costante L'andamento di questa roba qua È una parabola È una polinomiale Di ordine 2 Gli altri termini Sono trascurabili Quando ovviamente N Cresce Diciamo Tende a infinito Anche se noi Non ci arriveremo mai Dalle parti dell'infinito Ci fermiamo molto prima Ok Quindi Tutti questi algoritmi Hanno la stessa Complessità sintotica Come chiameremo Quindi la stessa Legge di crescita Del tempo di esecuzione Al crescere Della dimensione Del problema Quindi Ciò che Importa a me È Questo Fattore Al di là Dei coefficienti Che cambiano Cambiando il computer Che possono cambiare Cambiando Magari qualche dettaglio Di implementazione Del programma Ma alla fine Il trend Quello che mi limiterà O mi determinerà Le prestazioni O limiterà La dimensione Del problema Che posso affrontare È effettivamente Questo N4 Questo N4 Diventa una proprietà Dell'algoritmo Non più Dell'implementazione Di quell'algoritmo Sul computer 1 Sul computer 2 Computer 3 Quell'algoritmo Il bubble sort Ha un tempo Di esecuzione Che asintoticamente Cresce Come cresce N al quadrato Questo è il tipo Di ragionamento Che riusciamo a fare E ci aiutiamo Questo ragionamento Con delle Diciamo così Espressioni Matematiche Che ci permettono Di dare Un bound Un lower bound Un upper bound Rispetto alla complessità Dei problemi Perché Il bubble sort È un caso particolare In cui Il numero L'ho detto prima Il numero di operazioni Non dipende Dai dati E nel nostro caso Della regina Invece dipendeva Dal dato Da dove metto La regina Eccetera Eccetera Quindi Non è detto Che io riesca Esattamente a calcolare Il numero di passi Dato un N Perché dipende Da come sono messi i dati Se sono più fortunati Se sono meno fortunato Quindi ogni Problema Anche Della stessa dimensione N Alcuni sono più facili Alcuni sono più difficili Da risolvere Per questo Vengono definiti Dei termini Che sono Delle versioni Un po' All'acqua di rosa Rispetto a quanto Avete fatto Con Analyse matematica Dove definiamo Una Una notazione O grande O grande Significa una funzione Che sia Rappresenti Un upper bound Di una funzione data La funzione che non interessa Ovviamente È il tempo di esecuzione Questo running time Quindi io posso dire Che il mio running time È o grande Di una funzione g Se Cresce Al massimo Quanto cresce g Quindi g È una funzione Diciamo così Una funzione di confronto Una funzione benchmark E io posso dire Il mio algoritmo Non cresce più Di questa funzione benchmark Ovviamente Qui c'è la definizione Di limite dentro Quindi Dato un n0 È possibile Trovare un c Positivo Per cui Se la funzione Se n è maggiore Di n0 Allora la funzione È minore Di c per g Alla n Però Chiaramente L'n0 Il c Nella definizione Di limite Sai che ce le dimentichiamo Lo usiamo all'inizio Per fare i conti cini Quello che ci interessa È dire Guarda Per un'opportuna Costante c La funzione G di n Domina Quindi è sempre superiore Asintoticamente Alla mia funzione Tempo di esecuzione E quindi Io so Dirti Che il mio tempo di esecuzione Crescerà A crescere di n Ma non potrà crescere Più velocemente Di g Non ti so dare Un termine assoluto Perché quella costante c Non la conosco E forse Non me ne frega neanche Però so darti Dirti Se cresce In questo modo Se cresce in questo modo Se cresce in questo modo Perché è una funzione Che la domina Ok Attenzione Che l'upper bound Può essere più o meno stretto Nel senso Che noi abbiamo Che ne so La funzione Log di n Al quadrato E o grande Di n Perché noi sappiamo Che assentaticamente Ovviamente Una funzione lineare Cresce più velocemente Di un logaritmo Anche se c'è il quadrato Qualunque potenza Del logaritmo Diviso n Tende a zero Per n che tende a infinito Sono memorie Del vostro passato Quindi Se noi scoprissimo Che un algoritmo Un tempo di esecuzione Log di n Al quadrato Potremmo sicuramente dire Che è o grande di n Anche se non è un bound Molto stretto Perché in realtà Questo divario qua Si allarga tantissimo Io sto sotto Alla n Ma sto sotto Di tanto Quindi magari Ci sono dei Bound migliori Rispetto a quelli Però La definizione Mi dà questo Mi dice Io sto sotto Questo Se questo limite Se sono più bravo Magari riesco a definire Un limite più preciso Se sono meno bravo Definisco un limite Più 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 ampio Vabbè Lasciamo Perdere i dettagli Esiste anche In alcuni casi Una funzione Lower bound Quindi omega Grande L'omega grande Mi definisce invece Un lower bound Che dice Ok La mia funzione f Da un certo punto in avanti Starà sempre sopra A una certa Altra funzione Benchmark G Una funzione di confronto G Per un opportuno valore Di una costante Moltiplicativa Positiva C ovviamente Quindi vuol dire Che la mia funzione Non riuscirà mai A scendere Sotto G E quindi crescerà Almeno Quanto la funzione G Quindi ho una sorta Di complessità massima E complessità minima Un lower bound E un upper bound Se per caso Fossi capace A trovare una funzione G Che sia Contemporaneamente Lower bound E upper bound Ovviamente con due valori Dei coefficienti C1 e C2 diversi Però sempre la stessa Funzione G Allora vorrà dire Che la mia funzione Può oscillare Ma in un range Con una forma Che è pinzata Da sotto e da sopra Dall'andamento Di una funzione Campione G Allora in questo caso Effettivamente Avrò un bound Stretto Un limite stretto Sul tempo di esecuzione Allora il gioco Qual è Il gioco è quello Di riuscire a scoprire Analizzando l'algoritmo Qual è l'upper bound Un buon upper bound E se possibile Anche un buon Tight bound Un bound stretto Un theta di n Anche se questo In realtà Richiede molto più Lavoro teorico Rispetto a quello Possiamo E vogliamo Spendere in questo corso Ma lo grande È facile E quali sono Queste funzioni Campione G E beh Sono funzioni Di cui conosciamo bene Quale sia La complessità sintotica No Cioè Dal primo anno Già sappiamo Che queste cose qui Un'esponenziale Cresce di più Di un polinomiale Un polinomiale Con un esponente maggiore Cresce di più Rispetto a un polinomiale Con un esponente inferiore E questo è n Questo è n4 Questo è n log n Questo invece log di n E sono tutte funzioni Che noi sappiamo Ascentoticamente Come ordinare Quali sono le scale L'ordine di infinito Di queste funzioni Quindi sono cose Che già sappiamo Quindi come funzione Campione Cerchiamo di prendere Ovviamente una di queste funzioni Che conosciamo benissimo Conosciamo benissimo Quanto cresce E come si comporta E quindi chiediamoci Il nostro algoritmo Come upper bound O meglio ancora Come tight bound Se riusciamo Su quale di queste curve Si posiziona Sarà o grande Di un esponenziale Sarà teta grande Di un quadratico Allora nel caso Dell'algoritmo Di bubble sort Visto che eravamo Riusciti a calcolare Esattamente il numero Di passi Sarà ovviamente Un teta grande Di n quadro Il nostro bubble sort Il nostro problema Del regine Sospetto Che sia Uno grande Di n quadro Di e alla n O e alla n Due alla n Dieci alla n È uguale Perché la base Di questo esponenziale È dentro il coefficiente Quindi non ci interessa Cambia solamente Il valore del coefficiente Ho il sospetto Che le mie regine Abbiano Ho visto Una crescita esponenziale Quindi ho l'impressione Spero che non cresca di più Ecco Poi magari Cerchiamo di scoprirlo Rispetto all'esponenziale In realtà Facendo i conti Vedremo che Può crescere più rapidamente Di un esponenziale Ecco Questa tabellina qua Ci dà un'idea Di quanto fa male Avere Degli algoritmi Che hanno una complessità Più che polinomiale Qui fa vedere Nell'ipotesi Così tanto Accademica Perché non è un valore Sensato Di avere Un computer Che esegue Un'istruzione Al secondo Qua Scusate Un'istruzione Ogni microsecondo Adesso in realtà Il computer di adesso Visto che stavano Questo vorrebbe dire Che lavoriamo sui megahertz Noi oggi abbiamo I processori che lavorano Ai gigahertz Quindi Almeno mille volte più veloce Ma non importa Diciamo così È semplicemente Una costante Che stiamo mettendo davanti E mi fa vedere I vari algoritmi Che abbiano una complessità Lineare Logaritmica O di 1 vuol dire costante O di 1 È ovviamente Un upper bound costante Ci mette un tempo costante Se faccio print Ciao Un algoritmo Che ha la complessità O di 1 Logaritmico Lineare N log N Quadratico Cubico Esponenziale Al crescere del valore Di N Quindi Quando N vale 10 Sono tutti indistinguibili Se andate a guardare Questi valori qua Sì Se non sono microsecondi Sono millisecondi Ma chi se frega E tutto sommato Se vado Al Se Passo da 10 A 1000 Da 3 microsecondi Arrivo a 10 Microsecondi Ma chi se frega Da un microsecondo Arrivo a 16 minuti Vabbè Sì È chiaro Però Sto comunque Pensando a un problema Che è Un miliardo di volte Più grande Però Se vado a prendere L'esponenziale Quindi Tutto sommato Una funzione Che cresce Polinomialmente Anche se Un quadrato Un cubo Vabbè Passo dai microsecondi Ai secondi O al massimo Ai minuti Invece Se io avessi una funzione Che cresce Esponenzialmente Mi accorgo Che Vedete Che qua Su 10 alla terza Non scrive Neanche Qual è il tempo Di esecuzione Già Su 10 alla seconda Su 100 Mi direbbe Che Questo programma Eseguirebbe Richiederebbe 10 alla 17 anni O Poi se io avessi un computer Che è 100 volte più potente Lo risolverai in 10 alla 15 anni Se poi mi dite Che vi cambia qualcosa Lo risolverai in 10 alla 15 anni Se che è in 10 alla 17 Allora Ne riparliamo Ma in realtà Vuol dire che A questo livello Non ci arrivo proprio Ok Quindi Sono programmi Che già Alla secondo Rivello Di dimensione 100 Già Non li posso Risolvere Con questi algoritmi Mentre invece Su tutti gli altri Rivelli di complessità Anche quella Polinomiale alta E posso arrivare Magari a 30 anni O 11 giorni Allora Magari fino a qua Riesco a arrivarci 11 giorni di calcolo 30 anni Magari non me li posso Permettere Però ho una barriera Che è molto più in là E 10 alla quarta 10 alla quarta 10 alla quinta Sul cubico Sul quadratico Vabbè Posso anche Arrivare fino A 10 alla sesta Che mi richiede Qualche giorno Di elaborazione Quindi La differenza Con cui si passa Dai microsecondi La velocità Diciamo così Con cui si passa Dai microsecondi Ai giorni E agli anni È molto diversa In funzione Delle varie classi Di complessità Ovviamente Ma questo un pochino Lo sapevamo Avendo già studiato Queste funzioni Ecco Queste sono funzioni Matematiche Ma Grazie alla nozione Di O grande Rappresentano anche Il tempo di esecuzione Massimo Del nostro programma E come facciamo A avere un'idea Del tempo di esecuzione Di un programma Ebbene In realtà Dal punto di vista Empirico Molto approssimato Si possono applicare Cinque semplici regolette Che ci permettono Di costruire Quella funzione TDN Nel caso peggiore Quindi Lo grande E visto che è un upper bound Devo mettermi nel caso peggiore Poi magari Sono fortunato Per cui Lei trova La funzione Trova la soluzione Subito Si ferma E riesce a Darmi il risultato Con un numero minimo Di operazioni Ma nel caso peggiore Invece deve lavorare Un certo numero di volte Ok E quindi Quali sono queste cinque regole Che poi possiamo usare Per Per analizzare I nostri programmi Allora dice Assumiamo che Ciascuna istruzione Del programma Richieda Un tempo Costante Quindi se faccio Una print Se faccio Un confronto Se faccio Una somma Se faccio Una moltiplicazione Quelle hanno Un certo valore Di tempo Ovviamente Un confronto Richiede un tempo Diverso Rispetto a fare La moltiplicazione Ma non ci interessa Questa micro differenza Diciamo che È una costante Ok Le operazioni semplici Sono Introducono Un tempo Di esecuzione Che possiamo Assimilare A una costante E quindi Rappresentiamo O di 1 A livello di classi Di complessità Ok Regola 1 Regola 1 Regola 2 Che Diciamo così Noi l'abbiamo Già compresa Nella regola 1 La differenza Del tempo Di esecuzione Tra i diversi Tipi di istruzioni Viene tranquillamente Ignorata Quindi Non ci interessa Se è o di 1 O di 2 O di 3 È sempre una costante Quindi chiamiamola Sempre o di 1 Se ho Degli istruzioni Condizionali Quindi Che ne so Una if Avrà due branch Vero o falso Ecco In questo caso Visto che sto Ragionando Per scoprire Il tempo Di esecuzione Nel caso peggiore Dovrò prendere Il caso peggiore Tra i due rami Quindi Se Ho un'istruzione If Diciamo così Che da un ramo Ci impiega Una complessità Di tipo n Quadro E dall'altro Ci impiega Una complessità Di tipo odn Che andremo a calcolare Andando a analizzare L'istruzione Che stanno In questo ramo If Allora Dirò Che l'istruzione If Ha una complessità Odn Quadro Perché È il caso Peggiore Tra i due Quindi Se ho un ramo In cui faccio Poche operazioni Un ramo In cui ne faccio Molte Poiché a priori Non so se l'if Prenderà un ramo Oppure l'altro Oppure con quale frequenza Andrà da una parte O dall'altra Io mi metto nel caso Peggiore E mi dico Vabbè Allora il caso peggiore È Come se andassi Sempre da questa parte Qui E allora La complessità Alla peggio Si comporta Nel modo più sfortunato Cioè Come se andasse Sempre dalla parte Dove c'è più lavoro Da fare Se io ho poi Più istruzioni In sequenza Ovviamente La complessità Sarà la somma Delle varie complessità Ma La somma Ovviamente Prende solamente Si ricorda solamente Del termine dominante Quindi se ho Una parte Di programma Quindi un blocco Di programma Bla 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 Un po' di istruzioni Che impiega un tempo O grande di N quadro Poi un altro blocco Di istruzioni Che impiega un tempo N cubo La somma di questi due Sarà ovviamente N quadro più N cubo O grande di Ma nella notazione O grande Chiaramente N quadro È trascurabile Rispetto a N cubo Quindi vuol dire Che quando io Ho due pezzi di programma Di complessità diverse Se sono Separati da un if Nel senso che eseguo O uno o l'altro Prendo quello dominante Se sono sequenziali Nel senso che eseguo Sempre prima E poi l'altro Anche in questo caso Prendo il termine dominante Che mi riassume Il tempo di esecuzione Dell'intero blocco Di programma Composto Dalla somma Di questi blocchi Infine L'ultimo passaggio È Cosa succede Se ho dei cicli Dei loop Dei for O dei while E in questo caso Visto che un ciclo Si ripete Ripete tante volte Un certo blocco Di istruzioni La complessità Del ciclo Nel suo complesso Sarà uguale Alla complessità Del corpo Del ciclo Moltiplicata Per il numero Di iterazioni Che mi aspetto Se questo numero Di iterazioni È costante Di fatto Non cambia un granché Se questo numero Di iterazioni Dipende da N Allora ovviamente Andrà ad aumentare Ad incrementare La complessità Quindi se è un ciclo For semplice For i Uguale 0 Fino a N Allora avrà Se l'istruzione Contenuta È una complessità Pari a U O di 1 Avrà una complessità Pari N Per O di 1 Cioè O di N Vediamo un esempio In cui si applicano Queste 5 righe No? Queste 5 regole Supponiamo di avere Questo programma Non mi interessa Cosa fa Ok? Non ho bisogno Di capirlo La regola mi dice Parti Dalle istruzioni Semplici E assegna a queste Una complessità O di 1 Questa Questa istruzione Semplice È un incremento Di una variabile E quindi Ha complessità Costante O di 1 Poi vai a vedere Questo incremento Dov'è? È dentro Un ciclo For Questo ciclo For Quante volte Viene eseguito? Ecco Viene eseguito N volte Quindi La complessità Relativa All'esecuzione Di questo ciclo For Sarà uguale A N volte Per la complessità Legata All'esecuzione Di una sola volta Del corpo Del ciclo Quindi O di N Per O di 1 Mi fa O di N Per 1 Cioè O di N In totale A questo punto Ho un blocco Non mi interessa più Cosa c'è dentro Questo blocco qua So che è dentro Un ciclo for Quante volte Viene eseguito Questo ciclo for esterno? N volte E quindi Anche qua Avrò un blocco Che ha complessità O di N Che è inserito Dentro un ciclo Che viene eseguito N volte E moltiplico Ovviamente Queste due complessità E mi daranno Sorpresa N quadro Quindi Ciò che mi fa Crescere La complessità Alla fine È L'esecuzione Di operazioni All'interno Di cicli In un codice Sequenziale In un codice Sequenziale Normale Operazioni Normali Che però Vengono ripetute Un numero di volte Proporzionale N Tenete presente Che se qua Anziché N Ci fosse scritto 100.000 Per assurdo Questo avrebbe Complessità O di N Perché 100.000 È una costante Non è Dipendente Da N E quindi Il ciclo interno Avrebbe complessità O di 1 Poi Uno dice Ma attenzione Questa costante qua In realtà C'è dentro un 100.000 Non è che sia una costantina In microsecondi Ecco Questo è il limite Della analisi Asintotica Di complessità Che non tiene conto Di valori assoluti Tiene conto Solamente di quando N è molto grande E quindi N Domina Rispetto a 100.000 Poi magari N vale 17 Che è molto più piccolo Di 100.000 E quindi Conterebbe di più Il 100.000 Rispetto a N Ecco Questo è un limite A cui dobbiamo Fare attenzione Nel senso che Va bene Se effettivamente Il fattore dominante Della crescita È la crescita di N Se ci sono altri fattori Che richiedono Un tempo Molto forte Magari Sono questi Che dovrebbero Essere tenuti in conto E quindi Questa analisi Semplificata Che stiamo facendo Non vale più Però vabbè Accontentiamoci Io Cerchiamo Di non finire In questi casi particolari Quindi Il tempo di esecuzione Almeno La complessità Asintotica Cresce Più Rapidamente Quando il codice È annidato Dentro altri cicli Che non Rispetto La lunghezza Del codice Quindi Posso avere Un programma Molto lungo Che ha Una complessità Bassa O di 1 O di n Oppure un codice Molto breve Che però Ha fatto I cicli Anidati Dove la complessità Invece Cresce di molto Mario Ci chiede Se la complessità Dipende Da più di una dimensione Si può fare Lo stesso tipo Di analisi Sì Ad esempio Ci sono Le analisi Tempo-spazio Cioè Il tempo di esecuzione Lo spazio occupato Sono due dimensioni Indipendenti E la complessità Cresce separatamente Ne due dimensioni Però Normalmente Si cerca Di analizzare Le cose Prendendo Un algoritmo Per volta Una parte Sola per volta E quindi Capire se c'è Questa relazione Tra n e m Per dire Ipotizzando due Variabili diverse Sì Ho capito Cosa intendevi Se ho più Variabili Che stanno crescendo Mi chiedo Stanno crescendo Indipendentemente Allora Se sono indipendenti Io posso Tenere ferma una E far crescere l'altra O viceversa E quindi Vado Dico Cresce con questa complessità Rispetto a n E con quest'altra Complessità rispetto a m Se invece Non sono indipendenti Allora potrei Definire una Terza variabile Che le metta insieme Entrambe E calcolare la complessità Rispetto a questa terza Però dipende Essenzialmente Da cosa sto Cercando di risolvere E' più utile Prendere una per volta In realtà Perché almeno capisco Nelle varie dimensioni Dov'è che sto crescendo Dov'è che mi sto andando A schiantare contro il muro Ecco Questa cosa qua Tra l'altro Ci sorprende un pochino Questa versione Di codice E' leggermente diversa Da quella precedente Nel senso che il ciclo interno Non parte da 0 N meno T E se noi abbiamo E se noi abbiamo fatto Un'ottimizzazione qua Che in media Mi dimezza i tempi Guardate questo 2 Il numero di operazioni La complessità sintotica La complessità sintotica Se riesco a modificarla Ad agire Può far sì che il programma Ci metta 2 ore Anziché 200 anni E quindi sicuramente E' il termine più importante Su cui agire Se riusciamo Vabbè Qui ci sono altri esempi Di istruzioni Che vengono in sequenza E quindi Prevale Quella con la complessità maggiore Istruzioni condizionali An cui anche qua Ho un if Che prende da una parte Un codice Con complessità n E dall'altra Un codice Con complessità costante Ovviamente l'if Si prenderà La complessità maggiore Che poi viene a sua volta Moltiplicata per n In questo ciclo Quindi questa è un'operazione Abbastanza facile da fare E quindi Abbiamo Grazie a queste regole Una serie di Classi di complessità Via via crescenti Che corrispondono Grosso modo Alle funzioni analitiche Che abbiamo visto prima Complessità costante Lineare Lineare Quadratica Esponenziale Addirittura fattoriale Il problema Degli anagrammi Della volta scorsa È un problema Che è una complessità Fattoriale Perché È una complessità Fattoriale Perché Il numero di permutazioni Di lettere È Di una parola Di n lettere È n fattoriale Che cresce Più velocemente Di un esponenziale Quindi un esponenziale Non è il cattivo Qua Il fattoriale è peggio In realtà Noi abbiamo ancora Un cattivo Più cattivo ancora Che qui non ci stava N la tabella Che è n elevato a n N elevato a n Tra l'altro Il nostro problema Delle regine Guarda caso Accadeva in questa In questa categoria Qua Perché io N regine Ciascuna delle quali Può andare potenzialmente In n posizioni diverse Quindi quante combinazioni Possibili ho N elevato a n Poi ovviamente Di queste n posizioni diverse Molte le possiamo escludere A priori Ma se ci mettiamo Nel caso peggiore Cioè di massima stupidità In teoria Le dovremo provare tutte Quindi Quella che a noi sembrava Dal grafico Excel Un comportamento esponenziale Probabilmente È più che esponenziale Perché è un 8 Elevato a 8 9 elevato a 9 10 elevato a 10 Cresce di più Di un semplice esponenziale Noi vedevamo un esponenziale Perché il nostro programma In qualche modo Evitava di analizzare Dei casi Non utili Ma non sappiamo se Quest'intelligenza Che aveva il programma Permetteva di scendere Da una complessità N alla N Semplicemente Una complessità 2 alla N Secondo me Ma poi lo possiamo vedere Potrebbe Il nostro programma Ha una complessità Tipo N fattoriale Perché di fatto Quello che faceva Era costruire Una permutazione Di numeri da 0 e 7 Cioè tutte le soluzioni possibili Erano tutte le stringhe Di numeri da 0 e 7 Rimescolate Riordinate In tutti i modi possibili Immaginabili Però Chiaramente Eravamo In quei problemi Sia l'anagramma Che le regine In cui Lavoriamo Sulla classe alta Di complessità Spesso succede Con la ricorsione Una cosa di questo genere Ecco qua Possiamo finalmente Andare a riprendere Le impressioni Che abbiamo avuto In laboratorio Sul funzionamento Delle collection E metterci Dei numeri Il confronto Tra l'arraylist E il linked list Vediamo Che l'aggiunta Di un elemento In entrambi i casi Ha un tempo Di esecuzione Costante O di 1 Anche se l'arraylist A volte deve fare Un lavoro aggiuntivo Di raddoppiare La dimensione Però quello È un tempo Che viene Un'operazione Che viene fatta Una sola volta E quindi va Forse ad aumentare La costante Ma quindi Questa costante 1 Nell'arraylist Tende probabilmente Essere maggiore Che la 1 Della linked list Ma a livello Asintotico Non ci interessa Cancellare un elemento Una remove Dato l'oggetto Ha un tempo Di esecuzione Che è dato Da n Perché devo trovarlo E n Perché devo rimuoverlo E rimuovere un elemento Significa spostare Tutti quegli altri Che vengono dopo Nell'arraylist Nella linked list Devo prima trovare L'elemento E però poi Cancellarlo È semplicissimo Perché basta Che rifaccia i collegamenti Quindi qui abbiamo Degli strumenti Che ci permettono Anche di capire Che ad esempio La get Di un array list Ha un tempo Di esecuzione costante Mentre una linked list Ha un tempo Di esecuzione Proporzionale Alla lunghezza Della lista Questo è il motivo Per cui Se devo fare molte volte Get con l'indice Una linked list Non è una struttura Adatta Ok La remove Di nuovo Dato l'indice Ha una complessità Un po' più Bassa Rispetto a quella Data all'oggetto Ma comunque Sempre odn Perché devo spostare La parte finale Attenzione Perché noi Ad esempio Nel nostro codice Delle regine Avevamo una remove Dell'ultimo elemento Allora in quel caso La remove Dell'ultimo elemento Ha una complessità O di uno Perché non c'è più nulla Alla sua destra Che devo spostare A sinistra Se avessi fatto Una remove Del primo elemento Invece mi sarei messo Nel caso peggiore Quindi Bisogna ragionarci Non basta semplicemente Applicare la formula Per capire Ecco Contains È un'operazione Che ha una complessità O di n Perché ovviamente Devo andare a cercare Tutti gli elementi Allora Nel nostro codice Java Noi avevamo usato Contains E noi avevamo usato Contains qua E poi Avevamo usato Una sorta di Contains Anche qua Perché andiamo A cercare Su tutti gli elementi Della lista Se avere Una certa condizione Quindi Mentre Nella procedura ricorsiva Abbiamo tutte operazioni Che hanno Compressità O di 1 Qua dentro Faccio un add Faccio una remove Dell'ultimo elemento Faccio un size Quindi sono tutte operazioni Con compressità Costante Ovviamente Vengono ripetute N volte Ma questo poi È inevitabile La funzione La funzione Posizione valida Invece Non ha una Compressità Lineare O di N Ma ha una Compressità Lineare Costante O di 1 Ma ha una Compressità lineare Perché deve Comunque andare A considerare Tutte le regine Posizionate Non sono N Sono di meno Sono pari Al livello Però Diciamo così Come Valore Asintotico È proporzionale N Quindi Se dovessi Ottimizzare Cercherei Ottimizzare Questa funzione Cercando di Ridurre Il numero Di volte In cui Ricorro A delle operazioni Che hanno Compressità Lineare Come Magari Mi tengo Un array Di flag Che mi dice Che questa Regina Se questa Colonna È già Occupata Oppure Libera Quindi Mi creo Di strutture Dati aggiuntive Che magari Hanno un tempo Di manutenzione Per essere Aggiornate Costante Ma mi permetto Di evitare Operazioni Che hanno Una complessità Lineare Piuttosto Che costante Quindi Io potrei Avere Un array Con i numeri Di booleani Da 07 Che mi dice Colonna È già Libera O occupata E in questo caso Questo Contents Si trasformerebbe Semplicemente In una Get Dimmi se Quella Colonna è libera E ovviamente Questo array Di flag Lo devo aggiornare Tutte le volte Che aggiungo Metto Metto Tolgo Una regina In una colonna Ma significa Fare semplicemente Una put Dell'elemento All'interno Dell'array Operazione Costante Nel caso Di un array List Quindi Questo piccolo Giochino Magari Mi può Complica il codice Ovviamente Devo costruirmi Le strutture Date di appoggio Per evitare Di fare Le operazioni Che siano Potenzialmente Più costose Marco mi sta Dicendo Per la domanda Quale righe Ha una certa Complessità Le if O i for E anche Contents Non hanno Una certa Rilevanza Allora Sì Non ho capito La doppia negazione Nella tua domanda Comunque La rilevanza Maggiore Io punterei L'attenzione Su questo Contents E su questo For Se io riesco A togliere dai piedi Questo Contents E questo For La funzione Postvalida Avrà una complessità Li costante O di uno Mentre invece Adesso Ha una complessità Lineare O di n Questa Differenza O di uno O di n Visto che la metto Qua dentro È dentro Un ciclo for Fa sì che Il corpo Dell'else Abbia una complessità Che sarà Adesso è O di n Quadro Perché faccio N volte Un'operazione Che ha dentro Un n Quindi n Quadro Se io riuscissi A far sì che Posizione valida Sia O di uno Allora Questo for Avrebbe semplicemente Una complessità O di n E non di O di n Quadro Tutte le altre Operazioni che sono qua Sono operazioni O di uno Tranne cerca Adesso poi lo vediamo Che cose si complicano Un pochino Quest'altro caso Terminale È più semplice Ha un'operazione O di n Anche lui Perché questa Coppia di un array Ha una complessità Proporzionale A lunghezza D'array Ma è comunque O di n Quindi di qua Sono O di n Di qua Adesso sono O di n Quadro Con questa Post valida Posso forse Diventare O di n Se riesco A migliorare Post valida E farla diventare Costante Però non è Tutta qua la storia Sarebbe tutta qua la storia Se questo fosse Un codice Sequenziale Ma è un codice Ricorsivo Quindi dobbiamo Un attimo Complicare Vedere ancora Un passaggio Cioè Come si Il secondo for In post valida È O di n Più o di 1 Dunque Secondo for Qui abbiamo N volte Un'operazione Che è costante Perché una get In un array list A tempo o di 1 Qui è o di 1 Quindi abbiamo O di n Per o di 1 Questo è o di n E questo è o di n Quindi Che viene ripetuto N volte Scusate Questo è o di 1 Costante Questo è costante O di 1 Ripetuto N volte Fa o di n Ok Quindi abbiamo O di n Qua Perché c'è Contains O di n Qua Perché abbiamo N volte Uno di 1 Una costante Ecco però Nel caso della ricorsione È un pochino più complicato Noi avevamo un codice Che Più o meno Aveva una struttura Di questo genere Procedura Che a un certo punto Richiama la procedura stessa Richiama tante volte Questa procedura Su dei problemi più piccoli Allora noi avevamo Proviamo a tradurre questo In termini di complessità Noi abbiamo Il caso terminale Che richiede una certa complessità Il caso generale Che dove il tempo viene speso A fare la divisione del problema E la ricombinazione del problema E poi l'analisi sotto problemi Una per ciascun sotto problema No? Grosso modo Ci ritroviamo Questo divide Per noi È la funzione Che controlla Se è valido Perché decide Quali sono i sotto problemi Da considerare Lasciate perdere Che qua c'è il divide Prima e il for dopo Quello che noi stiamo facendo qui È proprio Di scoprire Post valida È quella che mi dice Quali sono i sotto problemi Da considerare E poi ciascuno di questi Verrà considerato Ok? E poi faccio la ricorsione In questo caso Ricombinare Non c'è bisogno di far nulla Perché Semplicemente Quando arrivo al caso terminale Ho già la soluzione completa Non ho una parte Di una soluzione Da combinare con altre Quindi Decidiamo che T di n È la complessità Che vogliamo calcolare Per la nostra funzione ricorsiva È la nostra incognita La incognita è una funzione Ovviamente A e B Sono il branching Della ricorsione Cioè A è il numero di sottoproblemi Per un problema dato E B È quanto siano più piccoli Sottoproblemi Rispetto al problema originale Cioè io divido un problema In quattro parti Ciascuno delle quali È un quarto È un mezzo N meno uno Più piccolo Deve essere minore di N Rispetto al problema originale Che è la dimensione N Quindi in quanti Sottoproblemi lo divido E qual è la dimensione Ciascuno di questi sottoproblemi Poi ho Il tempo Di esecuzione Del caso terminale E il tempo di esecuzione Della divisione E della ricombinazione Se io applico Le cinque regolette A questo Cioè con queste Definizioni Io trovo Che ad esempio La funzione solve È applicata A un sottoproblema Di dimensione Non N Ma N diviso B Perché B È il fattore di riduzione Però questo Viene usato A volte Viene eseguito A volte Che è il numero 18 problemi Poi ho la divisione Ho la ricombinazione Ho il caso terminale E ho il caso totale Vedete che il caso totale T Si può calcolare Facendo la somma Di tutti questi pezzettini Dove però compare A sua volta T Per questo Che è complicato Risolvere Questa espressione Per cui Ad esempio Verrà fuori Una cosa di questo genere T di N Uguale Costante Per dire Nel caso terminale Oppure Dividi Più A volte T Per N su B Più C Quindi T Uguale D più A T Più C Quindi questa È una cosa di equazione La ricorrenza Per cui definisco T In funzione di T E a volte Si può Semplificare Ad esempio Dice Se ho dei casi particolari In cui La divisione La ricombinazione Siano di complessità N Allora Ho una complessità totale Che è N log N Proviamo a vedere In nostro caso Se siamo capaci A risolverla O perlomeno O perlomeno Scriverla Risolverla Sarà più complicato Allora Noi abbiamo Fatemi prendere la lavagna Ok Noi abbiamo Il nostro codice In cui Allora La complessità In funzione di N Della funzione solve Da cosa è data Allora Noi abbiamo La parte di Di caso terminale Che è un odn Per il caso terminale Oppure Per il caso normale Cosa fa il mio codice Vado a prendere il codice Supponiamo di aver modificato Post valida In modo che sia Od1 Allora ho un odn Qua N volte Anche qua Sono tutte operazioni Od1 Queste E quindi ho N volte Questa La Divisione Ha una complessità Odn Quindi Odn Per tutto il meccanismo Della Della divisione No Scusate Non è così Io ho la divisione Che è Od1 Perché abbiamo Ipotizzato di aver modificato Già la funzione Che mi desse La posizione valida Più Quante volte Faccio la ricorsione Quante chiamate ricorsive O E saranno N Meno Se sono A livello Zero Se io ho un problema Di dimensione 5 Per dire Farò 5 Chiamate ricorsive N È il contrario Di livello Se il livello Partiva da 0 1 2 3 N parte da 8 Poi diventa 7 Poi diventa 6 Poi diventa 5 Quindi Il primo caso Io ho N uguale 8 E farò 8 Chiamate ricorsive Al secondo caso N uguale 7 Farò 7 Chiamate ricorsive Quindi il numero Di chiamate ricorsive È pari a n Stavo per scrivere N meno 1 Ma non è vero È pari a n Chiamate ricorsive Che chiamo La funzione t Su un problema Che quanto è grande Il problema ricorsivo E beh Se io ho N uguale 8 Il sottoproblema Avrà N uguale 7 Avrà Di fatto Una colonna in meno E una riga in meno E quindi N meno 1 Più Il costo La ricombinazione Che non c'è Quindi Tra questi due Ovviamente Il termine dominante È questo E quindi Noi dobbiamo risolvere L'espressione Che in cui T di n Uguale 1 Più 1 Una costante Più n Per T Di n Meno 1 Io non lo so fare Però è possibile Che WolframAlpha Sia capace a farlo Quindi se prendiamo Il miglior amico Dell'ingegnere Cioè WolframAlpha Posso scrivere Che T di n Uguale 1 Più N Per T Di n Meno 1 E mi dà Questa soluzione Vediamo se riesco a ingrandirla Quindi l'input è questa L'equazione Che stavamo cercando Di risolvere La soluzione Che mi ha dato A questa È T di n Uguale Costante Per gamma Di n Più 1 Più e Vabbè Un'altra costante Per gamma Di n Più 1 Questa funzione Gamma È Non so se L'avete già incontrata È di fatto La generalizzazione Ai numeri reali Della funzione Fattoriale Lui qui non sa Che n È un numero Intero E quindi Gamma di n Più 1 Sarebbe n Fattoriale In pratica Quindi ci sta dicendo Che il tempo Di esecuzione Della nostra Procedura È Una costante Moltificato N Fattoriale Sì Poi con dei correttivi Lì bisognerebbe andare A capire bene Se la funzione Gamma Qual è Dominante Tra questi due Termini Ma tutto sommato Cioè Questa equazione Che sembrava Innoqua N N-1 In realtà Ci dà una complessità Totale Che cresce In modo fattoriale Per fortuna Non cresce come n Elevato a n Ma Per crescere come n Elevato a n Basterebbe dire Questo Se io facessi n Cioè Il sottoproblema Non diventa più piccolo Del problema originario Mi dovrebbe crescere Vabbè Non lo sta risolvendo No Vabbè Torniamo a questa Non andiamo a esplorare cose Che Ipotetiche Ok Quindi Questa è una conclusione A cui possiamo Arrivare In questo caso Abbiamo fatto un'analisi Molto semplificata E siamo arrivati a dire Che questo nostro Algoritmo del regine È una complessità Che praticamente È Dell'ordine Quindi abbiamo detto Che t di n È dell'ordine Della funzione Gamma Di n più 1 Quindi è circa Uguale O grande Di n fattoriale Ok Se noi Noi abbiamo fatto qua L'ipotesi Che posvalida Avesse Complessità pari A o di 1 Se invece Questa posvalida Avesse Complessità pari A o di n Cosa cambierebbe E cambierebbe Allora Che io Comunque La procedura Ricciarsiva La chiamo N volte Ma poi Ma poi però Ho un Costo Di chiamare Posizione valida N volte Anche lei E posizione valida A sua volta Una complessità O di 1 Quindi Nel mio caso Avrei un costo Che è Un n quadro Quindi N volte Chiamo la funzione Ricorsiva Sul problema Un pochino Più piccolo E n volte Scusate Non n per 2 Ma n alla seconda N per n E n volte Chiamo la funzione Pos Che ha complessità Pari a n E quindi In questo caso Vediamo se Peggiora tanto Ecco Non peggiora Dal punto di vista sintotico Non peggiora Un gran che No In realtà Peggiora un po' Perché abbiamo N A parte le costanti N per gamma Quindi avremmo Beh Più o meno Avremmo Nell'altro caso Avremmo Che T di n Sarà O grande O grande Di N per n Fattoriale Che però Capite che N per n Fattoriale Non è altro Che n Più 1 Fattoriale Circa Ok Asintoticamente Quindi alla fine Ci spostiamo in là Di una posizione Vuol dire che Se noi traslassimo Questo in tempo Di esecuzione Ottimizzare Ottimizzare La funzione Posizione valida Mi permette Di andare avanti Di una Posizione Quindi anziché N N più 1 Come dimensione Diciamo così Raggiungibile Della scacchiera Però Vale comunque La pena Nel senso che Comunque Mi permette Di scendere Di un gradino Nella scala Del mio Foglio excel Di una Posizione Quindi Cosa Cosa Imparo Imparo che All'interno Nella procedura Ricorsiva Ogni fattore Di rallentamento Viene moltiplicato Diciamo così Esponenzialmente E quindi Mi permette Di affrontare Problemi Più o meno Grandi L'altra Osservazione Che non emerge Da questo esempio Ma che Il tipo di complessità Dipende moltissimo Da questi Fattori qua Da quante volte Richiamo la funzione Ricorsiva E quanto E' più piccolo Il problema Ricorsivo Stesso Quindi Se io riuscissi A trovare Dei modi Ok Per Saltare Dei passi Qui Più è In questo caso La funzione Teomatica Non è che può fare Molto Di più Ma In questo caso Dato Una Dimensione Il problema Posso fare N chiamate Ricorsive Se riuscisse A trovare un modo Per farne N mezzi Sempre Perché magari Escludo Che sto Giocando sulle Simmetrie Non so se In questo problema Si possa fare Però investo Un pochino Di tempo Nel cercare Di non fare Alcune chiamate Ricorsive Ecco Ogni chiamata Ricorsiva In meno Si moltiplica Anche lei Esponenzialmente Sul numero Di chiamate Totali E quindi Anche qua Ho un guadagno Quindi Spesso Si cerca Di investire Un pochino Di più In questa fase Un pochino Di tempo Per ridurre Il numero Di chiamate Così come Se è possibile Far sì Che la situazione Parziale Sia Più piccola Magari Anziché Una riga Due Perché magari Ho delle scelte Obbligate Immaginate In questo caso In cui ho una riga In cui ho delle scelte Obbligate Su otto posizioni Ce n'è una Obbligatoria Allora Quella riga La salto Passo direttamente Quella successiva Perché tanto Quella è una scelta Obbligata E mi può permettere Di far sì Che il problema Da otto Magari Sembri di sei Perché due righe Diano chiamati I coefficienti A e B Sono Altrettanto Importanti Perché Mi dicono Quanto Rapidamente Il mio problema Viene ridotto Nello scendere Nella ricorsione Quindi Devo fare attenzione A queste tre cose A e B Cioè Quanto si riduce Il problema scendendo Non è che si possa Fare magia Perché magari Come dicevamo prima A volte ci sono dei problemi Che Intrinsecamente Non sono risolubili In modo più efficiente Boh Me lo tengo E poi A livello di codice Cercare di evitare Operazioni pesanti All'interno Della ricorsione Allora Rispondo Ad Alessandro E Mario Alessandro mi chiede Perché il caso terminale È una complessità ODN La complessità ODN Perché sto ricopiando Un array list E quindi Copio Una struttura Data di n elementi Il tempo necessario Per questa copia È pari Alla dimensione Dell'array L'operazione di copia Ha una complessità ODN Perché Sto copiando Un array Di n elementi Quindi non è costante Va Cresce Il tempo che ci metto A copiare un array Cresce La dimensione Dell'array Questo è un altro motivo Per cui Tornando alla discussione Dell'ora precedente Questa operazione Qua non mi piacerebbe Ok Il fatto di creare Una lista nuova Perché dentro La ricorsione Io farai un'operazione Che ha complessità ODN Dentro un ciclo Già che ha N volte E quindi avrei Già un N quadro Che moltiplica Il TDN Mario mi chiede Non ho capito bene Come potremmo Ottimizzare la postvalida Postvalida Significa Semplicemente Qui che cos'ho Io avrei fatto Una sorta Di array In cui scrivo Ad esempio Così Eccetera In cui Mi Mi scrivo Se una colonna È già occupata Allora Se facessi un array Se avessi un array Di questo genere Che mi dice Se in quella colonna C'è già la regina Non c'è già la regina Ok Allora basta che io Acceda a quell'array Che mi dice Ok ma la colonna 3 la regina C'è già No Allora la posizione È valida La regina C'è già Sì Allora la posizione Non è valida Quindi fare Semplicemente Un get Dentro quest'array Senza andare A fare il contains Ovviamente Un array Che parte Con tutto falso Nessuna regina E poi man mano Che metto le regine Qui dentro Man mano Che metto add Vado a mettere A true La posizione Corrispondente Di quell'array E in questo caso Trasformerei Un contains In un get Che quindi Ha complessità costante Mi serve Un'altra lista Qua ovviamente Di appoggio Per precalcolare Qualche cosa Ma con un costo O di uno Qui E un costo O di uno Qua Devo fare Devo fare La stessa operazione Qua sotto Evitare di Questo ciclo For Dovrò avere Anche lì Un array Di vero falso Indicizzato Per colonne Per la somma Delle colonne Somma righe Più colonne Quindi per il fatto Il k Delle diagonali E il k Delle diagonali Inverso Quindi mi servono Tre array In più Qui devo fare Attenzione Perché gli indici Possono diventare Negativi Quindi non metti Un valore assoluto C'è un po' Di lavoro da fare In certo senso Per arrivare lì Con degli array In cui accedendo Ai quali Si può Velocemente Scoprire Se la regina È in una posizione Valida Oppure no E questi array Ovviamente Ho bisogno Della collaborazione Della fruttura Ricorsiva Per modificarli E Rimettere a posto Nel backtracking Chiaramente Quindi Non è una cosa Indolore C'è sicuramente Più codice Però se mi permette Di scendere Complessità Ci posso guadagnare Ok Se un array È molto lungo La getDindex Rimane odiuno In un arraylist Sì In un arraylist Io so esattamente Dove andare a leggere In memoria C'è il valore Che mi serve Quindi è sempre odiuno In un arraylist In un arraylist No Giorgia ci chiede ancora In che modo Il sottoproblema È più piccolo Nel caso delle regine Perché io ho messo Un n-1 Immagino che ti riferisca A questo Che ho detto Il problema A cui Quando io chiamo Una procedura ricorsiva Io la sto chiamando Su un problema Che in realtà Ha una riga in meno Ogni volta Che faccio Una chiamata ricorsiva Il numero di righe Su cui devo lavorare Cioè il problema Che devo ancora risolvere Ha una riga in meno E quindi è come Se lui ricevesse Di fatto Una Scacchiera Che non ha più Otto righe Ma solamente Sette E quella sotto Ne ha sei E quella sotto Ancora ne ha cinque Quindi ogni volta Ogni procedura ricorsiva Visto che la parte Superiore È già piena La parte di problema Che rimane da risolvere È più piccola Ogni volta Di un valore in meno Di un n in meno Rispetto a prima Rimane ancora La domanda Se non sbaglio Di Nicolo Che mi chiede Abbiamo tutti strumenti Per fare l'esercizio 1 Dell'esame No Non ancora Perché In realtà La parte della ricorsione È nel punto 2 Dell'esame Il punto 1 L'esame Invece Contiene anche L'uso dei grafi Ok Che inizieremo La settimana prossima Quindi la settimana prossima Andremo avanti Sui grafi Ma in parallelo Ancora fare Qualche esercizio Di ricorsione Poi l'esame Di solito C'è un esercizio Con la ricorsione Su un grafo Che mette insieme Le due cose Però la ricorsione L'abbiamo anticipata Come sequenza di argomenti Proprio perché Richiede Un pochino più di tempo Per essere sedimentata Per essere Diciamo così Interiore Interiorezzata Mentre invece I grafi Sono relativamente Più semplici Sono più operativi Ma meno concettuali Quindi abbiamo scelto Di anticipare Questa ricorsione Per poter Diluire un pochino Di più gli esercizi Ok Non so se ci sono Altre domande Se no Può essere tempo Di lasciarci Mi avete chiesto Di pubblicare Il video A metà lezione Io ho provato a farlo Registandolo separatamente Ma il portale Nel frattempo Non mi ha aiutato Per cui non sono riuscito A farlo Perché avevo questo Nell'intervallo Come avete visto anche voi E quindi Per le prossime volte Dovrei riuscire a caricarlo Anche più rapidamente Ho cambiato Le modalità di registrazione Per quanto riguarda Il ritorno in presenza Che era l'altra cosa Di cui si è discusso Non vi so dire ancora niente Nel senso che Dall'alto Non è ancora arrivata Nessuna indicazione Quindi questa settimana Continuiamo così Speriamo che qualcuno Abbia lo scatto di volontà Di dire La settimana prossima Si può ritornare A fare laboratorio In presenza Per il momento Però non ci sono ancora Novità Ci aggiorniamo Non appena lo sappiamo Ok Vi lascio andare Perché è tardi E se avete ancora Dubbi o domande Continuiamo la conversazione Su Telegram Buona giornata Ciao a tutti